Oggi a Cutro, tra le proteste di molti cittadini scesi in piazza per manifestare contro il governo dopo il naufragio costato la vita a 72 migranti, è stato il giorno dell'atteso Consiglio dei Ministri che si è riunito, eccezionalmente, nel comune calabrese. Il governo ha varato un nuovo decreto in tema di immigrazione. Il provvedimento prevede fino a 30 anni di carcere per gli scafisti, potenzia la sorveglianza marittima con un ruolo di coordinamento affidato alla Marina e i centri permanenti di rimpatri o anche in deroga alla legge. Ma il dramma dei migranti non conosce tregua. A Lampedusa da ieri si contano decine di sbarchi e il centro di accoglienza è ormai al collasso. Oltre 1.200 i naufraghi arrivati in poche ore. L'ultimo barchino soccorso dalla guardia costiera trasportava un cadavere. L'hotspot starebbe ospitando 1.400 persone a fronte di una capienza di 400. Ancora esplosioni a Kiev stamattina dopo il massiccio attacco russo in tutta l'Ucraina della scorsa notte con 81 missili russi, sei dei quali ipersonici a capacità nucleare. Cinque morti a Leopoli, una a Dnipro e tre a Kherson. Nella capitale il 40% dei residenti è rimasto senza riscaldamento. Anche la centrale nucleare li zaporisce e senza elettricità dopo l'attacco. Per l'Unione Europea la situazione è molto pericolosa e l'alto rappresentante per la politica estera Borrell avverte il rischio di un incidente nucleare è molto aumentato nelle ultime ore. Per l'ufficiale di Marina Walter Biott accusato di spionaggio la procura militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo. Secondo la ricostruzione del PM Biott nel marzo del 2021 avrebbe ceduto in cambio di denaro documenti riservatissimi a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia. Nel 2022 il recupero dell'evasione fiscale ha toccato una cifra record, è il numero più alto di sempre pari a 20,2 miliardi di euro. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presentando l'attività dello scorso anno. Intanto il vice ministro dell'economia Leo ha confermato che la prossima settimana è attesa in consiglio dei ministri la riforma fiscale. Gli atti dell'inchiesta Covid trasmessi per competenza territoriale dalla procura di Bergamo sono al vaglio degli inquirenti della procura di Roma. Il dossier riguarda 13 persone indagate, tra questi gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, oltre a funzionari di vertice e tecnici del Ministero della Salute per omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato aggiornamento del piano pandemico. Tra i reati che sono stati contestati a vario titolo dai pubblici ministeri lombardi ci sono anche il falso e la truffa. I magistrati della capitale valuteranno nei prossimi giorni le diverse posizioni per stabilire se formalizzare o meno l'iscrizione delle ipotesi d'accusa anche a Roma. Blitz dei carabinieri contro l'Andrangheta Gioia Tauro. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria ha colpito le cosche Piromalli e Molè, due dei gruppi storici dell'Andrangheta. Sono complessivamente 59 gli indagati e 49 gli arrestati. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, narcotraffico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra. Coinvolti anche un finanziere di 49 anni, Salvatore Tosto, e un sacerdote, Don Giovanni Madafferi, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Castellace. Grazie. Grazie. Grazie.